Per un'altra volta, scusa, volevo semplicemente sottolineare, per quanto riguarda, ovviamente un'attività di anche pensiero della giudizia, che nel giudizio non sarà chiaramente dedicato il fatto che il concorrente sia un scelto che il solista, ma per dire l'altro non la vita, mi scusa, ovviamente un giudizio sottolineare non c'è l'immigiativo, va bene se volevo finire. Va bene, ben chiuso, ho visto una, perché non è proprio corretto, diciamo, in questa veste sformata, se ne è sceso un po', sono uscito, ok, va bene grazie. Saludiamo Michele Cinco di Bosità News, che è arrivato da Milizio, che è stato trovato